Siamo al teatro Lorenzo Dapponte, abbiamo la compagnia oggi di Carlo De Poi. Un grande successo oggi questa rappresentazione teatrale, in ricordo dei 150 anni dell'ingegnere Ettore Fender. Sono contento, perché comunque è una prima questa, l'abbiamo già fatto un'altra volta qualche mese fa, però non sai mai come va a finire, invece il pubblico era molto amico, posso dire così, per cui ho giocato bene, ero in casa. Tu sei abituato a fare monologhi, che differenza questo spettacolo dagli altri? Ha una grossissima differenza, nel senso che ho lavorato sulla mia memoria di bambino, di bambino, di adolescente, questa è la grossa differenza che c'è, c'è sempre tu dentro quando scrivi, però questo sono andato a ripescare i momenti della mia infanzia, insomma, e quindi c'è un calore per me nel raccontarli, perché molto spesso sono comici, però magari nascondono tragedie, non tanto mie, perché io ho avuto la fortuna di non avere grandi tragedie nella mia vita, però di qualcuno che era vicino, e quindi è stato, ha toccato, mi è venuto naturale toccare tanti tasti emotivi, e quindi per me è stato un piacere scrivere questa cosa. Tu sei in questa occasione sceneggiatore, regista e anche attore, come si può vivere tutte queste diverse personalità? Questo non lo so, so che il regista si incazza, scusa, non so se si può dire, però con l'attore. Tu ti incassi con te stesso, quindi? Evidenze, scusa, nel senso che l'attore fa quello che vuole lui, il regista cerca di, ma questo mi succede con gli attori anche, questo solo che vado più, è peggio con, no, comunque dai, ho lasciato delle libertà all'attore, perché se le prese da solo, senza che il regista volesse, ma, non so, così, è nata da un'esigenza, da bisogno di raccontare questa storia, della storia del progetto Fender, del parco, anche di Fender, letta dal mio punto di vista, naturalmente, l'esigenza però di raccontarla, perché la mia paura è che questa esperienza, che io comunque ritengo straordinaria, adesso, vero della parola fuori dell'ordinario, perché dalla base, cioè dalle associazioni, dalla gente che lavora quotidianamente, per la comunità è nato questo progetto. Siccome non sappiamo come va a finire, è un progetto, è una sfida, non è mai stata una certezza, e ancora oggi sappiamo che siamo, anche noi stessi, al di là delle traversie che succedono, anche per noi è una sfida, perché continuano a mandare avanti, senza denari, sul volontariato, cioè, non è facile, insomma, sappiamo che è rischioso, e che potrebbe rischiare di chiudere, a un certo punto di implodere, però, però pensiamo che una società è giusto, che tenti questi percorsi, perché, io ho sempre pensato che questo fosse un laboratorio, un laboratorio per una crescita civile, sociale, umana, per la nostra comunità. Tu prima dicevi, che queste associazioni, sono state un po' colpite nel loro cuore, sono state tra di loro messe una contro l'altra, cosa intendevi? Beh, voglio dire che, questo progetto così grande, perché sono 11 ettari, un'area grandissima, con un progetto che attualmente è sì e no, al metà dello sviluppo, e non solo, in cui noi pensavamo inizialmente di essere solo la miccia, che faceva aprire un processo, per cui altri enti, sarebbero entrati, in questa logica di comunione, di lavorare insieme, ciascuno per le sue competenze, questo è quello scritto inizialmente nel progetto. Ecco, purtroppo questo percorso, a un certo punto si è interrotto, e oggi è interrotto, cioè, per quello che è successo, per le, io non voglio dare delle colpe, anche se, secondo me, ci sono delle responsabilità rispetto a questo, questo processo si è ingrippato, stiamo cercando, basandoci sulla solidarietà, sui rapporti, che è l'unica cosa che abbiamo, è la nostra ricchezza, se perdiamo quella, oggi sta rischiando, per cui speriamo di poter ricomporre questo meccanismo, in realtà è un po' un'isola che non c'era, quindi è un'utopia quella che c'è dietro, questo, e sappiamo che le utopie, molto spesso, infatti ho raccontato l'ultima storia, quella dei, dei gesuiti, nelle Sud America, proprio perché, vabbè, là ci sono tanti morti, c'è tutto il grado sociale, eccetera, ma, quindi molto più grave di quello che potrebbe succedere qui, se le cose non andassero avanti. Cosa pensi che succederà all'area Fender, e a tutto quello che ci sta dietro, e il tuo futuro come attore, regista, è il cineggiatore? Ma, io sinceramente come attore sono un po', cioè, non ho mai, cioè ho lorto molto poco come attore, ho fatto dei monologhi, ma questo che sia il terzo, questo sai, quindi non molti, ho questo problema di, che non mi piace molto l'attore come regista, e come attore non mi piace molto il regista, quindi ho dei problemi, ecco, quindi non lo so, non lo so cosa succederà, né sul piano della Fender, né sul piano nostro, quello che so per certo è che oggi mi sono divertito, che è stato un piacere fare questo lavoro, anche se è molto faticoso, perché ci sono arrivato con poco tempo per provare, eccetera, per tutte queste altre erogne, ma quello che mi piacerebbe molto, sarebbe che il mio gruppo, il mio gruppo, il gruppo in cui appartengo, di cui sono regista, potesse ritrovare la forza che avevo un tempo, che in questo momento sicuramente non ha, perché sono mancati i miei compagni, sono andati via come è andato via Fender, eccetera, e questi sono delle mancanze molto gravi, l'altra cosa rispetto al progetto, proprio io non lo so dove andiamo, mi auguro che quello che si è costruito in questi anni, sono nata un sacco di relazioni, di amicizie, tra noi che abbiamo lavorato in questi anni, queste sicuramente non vanno via, perché sono rimasti, rimarranno sicuramente per sempre, mi auguro che il progetto possa andare avanti, ci possono essere le generazioni future, che possono utilizzare un po' questo spazio, così come Fender l'ha fatto per, mettendo la fondazione, e poi cedendo anche la fondazione, cedendo l'area al comune, perché la potesse utilizzare in una maniera migliore. Secondo te con un'amministrazione di un colore diverso, le cose potevano essere diverse, la Fender poteva essere qualcosa di diverso? Non lo so, non lo so, io non si credo alla politica, credo, ma credo a chi ha gli uomini, e credo che questo progetto, che in realtà anche con le giunte recenti, è andato avanti negli immobili, non è completato, però è andato avanti comunque, però il problema non sono solo gli immobili, sono le relazioni, la nostra Vittoria Vanetti è una città che ha tante cose belle, ma anche tante frammentazioni, conflitti, eccetera. Se si lavora per cercare di diminuire i conflitti, per usare le sinergie in maniera positiva, questo è un lancio, c'è una possibilità di recuperare in questo paese, se succede il fatto contrario, è una cosa che alla fine è un danno per tutti, quello che dico secondo me non sono gli spazi, non è la distanza in più, quanto la possibilità di… quindi la risposta è sicuramente… però io penso che dipenda dalle persone, soprattutto, io comunque puoi avere… non lo so, mi fermo qua, perché non riesco veramente… è evidente che se… ma no, ma non è evidente niente, no, è così, dipende dalla volontà delle persone, dall'incontro delle persone. perché io penso che usi una tantissima, che abbiamo un po' di cauta, a questo ci sia un po' di cauta, Grazie.